a casa di ale racconta i podcast di alessandro pellizzari.com il blog di alessandro pellizzari dieci cose che un uomo non dovrebbe mai dirti tratto da la matematica del cuore riflessioni sulla vita di coppia di alessandro pellizzari e eliselle editore cairo ci sono cose che un uomo non dovrebbe dirti mai e se te le dice vuol dire che il suo tanto declamato amore per te ha come minimo delle crepe crepe a volte grandi come la casa dove vivete o dovresti un giorno vivere insieme queste frasi hanno una gravità più o meno alta alla quale ho dato un voto da 1 a 10 dove 10 dovrebbe farvi riflettere su una semplice domanda ma io lo voglio un uomo così alcune di queste frasi vengono dette nella prima fase dell'innamoramento nella fase dell'entusiasmo ma già ti suonano ridondanti eccessive per tempi e per modi non si dice ti amo dopo una settimana salvo rarissimi colpi di fulmine ci passi sopra perché vuoi goderti la storia che sta sbocciando come un fiore bellissimo e profumato ma il tuo sesto senso già fa suonare un campanello d'allarme sono quelle frasi che a latte versato e col senno di poi ricordi e ti dici quando ho storto il naso a sentirle quando mi hanno suscitato dubbi dovevo ascoltarmi non ascoltare lui vediamo allora le frasi più comuni tratte da moltissime storie commenti raccorti sul blog alessandropelizzari.com e anche dalle vostre confessioni o colloqui personali in counseling con me primo non mi hai saputo aspettare è la frase dell'uomo che vi ha fatto vedere i sorci verdi magari per anni e vi ha portato ad applicare il no contact o come lo chiamo io il codice del silenzio questo tizio non solo vi ha tirato sceme e non ha avuto il coraggio di decidere dopo tante chiacchiere di solito doveva lasciare la moglie per voi entro quando ma anche il coraggio di attribuire a voi l'insufficiente pazienza e quindi la responsabilità del fallimento del vostro percorso insomma un senza vergogna al quale non basta avervi fatto piangere per mesi anni dovevate anche aspettarlo di più giudizio vergogna 10 seconda frase credo che tu abbia un altro altra scusa senza vergogna di chi fa di tutto per essere mollato o perché non ha il coraggio di prendere una decisione anche se vi ama tanto o perché se libero e traditore seriale a imballo un'altra è tipico dei narcisisti dei traditori seriale dei senza vergogna affibbiare alla tanto glorificata amante o compagna fino a ieri il peccato di cui si stanno macchiando o si macchieranno spesso presto giudizio vergogna 10 terza frase mi spi su facebook lui vi ha raccontato che siete l'unica vi ha raccontato che non ha mai rapporti con la moglie da anni che le altre non gli interessano o sono solo amiche però se guardando il suo profilo scoprite che fa incetta di amicizie femminili tutte di un certo tipo tutte belle e sexy al punto giusto l'accusa è tu mi spi su facebook la tua gelosia è ingiustificata e patologica peggio quello che ti ha assicurato una vita da separato in casa con letto a castello e moglie che sa che la crisi è ufficiale liberi tutti ma se liberi tutti perché lei o lui postano foto da famigliola felice per salvare le apparenze nove uomini su dieci che dicono di non avere più rapporti con la moglie li hanno magari sporadici ma regolari giudizio vergogna 8 più patentino da bugiato quarta frase hai tirato troppo la corda nei rari casi in cui è lui a lasciare te il motto è hai tirato troppo la corda c'è sempre qualcosa che tu hai fatto di sbagliato irreparabile ha insistito troppo perché dopo due anni che dice di lasciare l'altra stava per iniziare a parlargliene e tu hai rovinato tutto proprio adesso insisti troppo con questa storia del weekend insieme sono appena sei mesi che vi conoscete un bel vaffa no giudizio vergogna 10 frase 5 io ti amo tantissimo l'amore è gradazioni si può amare così così o tantissimo diffida dell'uomo che dà livelli di amore perché nel momento in cui li dà significa che per lui l'amore assoluto non l'ha mai provato e non lo prova per te perché amarti tantissimo è sempre uno scalino sotto all'amarti e basta è una riserva alla completezza dell'amore giudizio rischio futuro coppia 8 sesta frase non mi lasci libertà indipendenza libertà belle parole concetti anche giusti in una coppia che deve prendersi i suoi giusti spazi ma occhio perché l'uomo vulgaris li usa come bandiera per farsi cavoli suoi e impunemente della serie tu invadi il mio campo e non è giusto mi soffo che con la tua gelosia e ogni presenza a parte che l'amore tenderebbe a condividere più tempo possibile ma invasione di campo se lui ti concede solo la metà del suo tempo io credo che una proporzione giusta al netto degli impegni obbligatori come lavoro e figli sia il 70 per cento al favore della coppia giudizio rischio coppia 7 rivedibile in peggio o in meglio a seconda di cosa ti risponde se usa il termine mi asfissi voto 9 frase 7 non ce la faccio a lasciarti stare lo hai lasciato perché non lasciava la moglie ti è costato tantissimo perché si è ancora innamorata lo hai dovuto fare perché lui non ha avuto gli attributi per farlo e sarebbe andato avanti così con la moglie e te amanti ancora per anni forse per sempre l'hai fatto tu hai adottato il codice del silenzio e piano piano con grande fatica stai tornando a vivere piangi di meno esci di più hai prenotato finalmente quel viaggio che ti piaceva e lui riappare come stai mi manchi vorrei e tu lasciami stare se non hai la separazione ho fatto i veri rivoluzionari nuovi lasciami stare non capisci che mi fai soffrire mi fai tornare indietro risposta non ce la faccio a lasciarti stare e mette giù perché lo chiama la moglie questi sono gli uomini peggiori giudizio vergogna 11 frase 8 ti amo ma non sono pronto quindi non ti amo abbastanza sei la donna più importante della sua vita non si era mai innamorato così farebbe di tutto per te ma non è pronto insomma un po come quelli che ha letto non ci riescono perché sei troppo bella e li ecciti troppo quindi se sei molto eccitato il pisello ti diventa piccolo e se sei troppo innamorato l'amore svanisce giudizio vergogna 10 frase 9 stiamo a casa tua stiamo sempre a casa tua niente più ristoranti amici parenti quelli ce li frequentiamo per conto nostro amore esclusivo occhio potrebbe nasconderti si chiama stashing perché non ti ritiene all'altezza di essere mostrata con orgoglio al suo cerchio magico o non hai un'importanza tale da investirci dei quattrini o sei una delle tante meglio mangiare da te a sbafo e fare sesso al netto dell'albergo giudizio rischio coppia 9 decima e ultima frase ero troppo impegnato per richiamarti 12 ore di silenzio dopo il tuo messaggio a volte 24 in certi casi 48 il lavoro certo non prendeva certo c'era lei certo aveva giudo certo nell'era del sempre connessi un uomo che non riesce a richiamarti prima della fine della giornata che non ha neanche un minuto per scrivere in qualsiasi modo fosse anche un vecchio sms un messaggio uno scusa ti penso appena posso chiamo sono incasinato o non gliene frega niente di te o è stato beccato dalla moglie ha deciso di sparire senza avvertire non è impossibile o era letto con un'altra tra le debite conclusioni una volta interrogato lui sul perché non riesce a fare questi gesti di elementare se non amore educazione giudizio rischio coppia 9,5 allora quanti punti ha portato a casa l'analisi la cosa importante quando si guarda questo elenco è non barare non aggiustate le situazioni trovando delle eccezioni non esistono eccezioni purtroppo guardare in faccia la realtà è l'unico modo per non farsi gabbare siate sempre esigenti con l'amore perché l'amore non si chiama amore se non dà il massimo era a casa di ale racconta i podcast di alessandro pellizzari.com alla prossima puntata